padre david maria turoldo pierpaolo pasolini don lorenzo milani tre grandi intellettuali del novecento il loro pensiero approfondito attraverso concerti spazi riflessivi performance installazioni è il nucleo fondante delle tappe di un viaggio negli intrecci e le convergenze tra sacro e laico 28 luglio 2023 coderno di sedegliano centro studi turoldo